Eccoci con il vicepresidente del Monte Rotondo, Simone Petrocchi, sconfitta contro il Trevignano. Primo in classifica il Trevignano, rimanete ancora secondi, con ancora una gara da recuperare, non è niente da buttare finora. Intanto dobbiamo fare complimenti agli avversari, ci sono visti in campo che giocavano la prima contro la seconda classifica. Insomma, bella partita, costa, dinamica. La mia squadra dobbiamo fare massimi complimenti perché ha fatto una grandissima partita. Devo dire che i primi dieci minuti noi, un po' male, un quarto d'ora, ma dal quarto d'ora un po' fino all'ultimo minuto del secondo tempo siamo stati direttamente superiori. Forse c'erano tre rigori, due rigori sicuri sicuramente, primo tempo, l'ultimo al secondo. Insomma, ho fatto tanti complimenti alla mia squadra. Sì, è vero, c'erano state un po' di recriminazioni per l'arbitraggio che secondo lei poi hanno influito sul risultato finale? Ma, certo, guarda, c'è il primo tempo rigore, il secondo tempo c'è un altro rigore, il secondo tempo c'è un'altra punizione, forse con il numero nostro 14, davanti alla rigore, ha dato il calcio, ha dato il sfavore. Non bene l'arbitraggio stasera, molto molto male. Grazie mille Presidente, alla prossima. Che ci, buona serata. Grazie mille Presidente.